Natale alle porte, tante associazioni, tanti volontari in questo momento impegnati per la mensa della solidarietà che in passato qualche mese fa ha avuto qualche problema riguardo le persone, i volontari che potevano cucinare per le persone che hanno bisogno e che ogni giorno vengono qui per pranzare, per cenare. In questo momento c'è, come vi dicevo, tanta attenzione perché siamo anche a ridosso delle feste e stasera tocca al gruppo dei volontari vicenziani cucinare insieme agli studenti del corso serale dell'Istituto Alberghiero che stasera stanno preparando la cena. Ma da parte di Mimmo Corona, fondatore della mensa della solidarietà, insieme a padre Pasqualino c'è un invito a tutte le associazioni e a tutte le persone che possono essere, a continuare ad essere vicini alla mensa solidale per tutto l'anno, per 365 giorni. Cosa bolle stasera in pentola per la mensa della solidarietà? Questa sera abbiamo preparato una zuppa di lenticchie con la pasta, del pollo al forno con delle patate, carote, sedano e cipolla e anche un piccolo dolcino fatto con la ricotta e i biscotti. Che effetto le fa cucinare in un luogo come questo dove arrivano persone che hanno comunque dei vissuti particolari, delle storie, anche come sta cucinando? Insomma c'è da parte sua uno spirito, un approccio diverso. Guarda, per me oggi è il vero regalo di Natale, perché nei miei pensieri c'era il desiderio di venire qua a dare una collaborazione sostanziosa e oggi questo regalo mi è arrivato, quindi sento di essere fortunata e sono veramente contenta di dare il mio piccolissimo contributo assieme al volontariato vincenziano di Sciacca. Bene, lei invece qui, quindi frequenta il corso serale dell'Istituto Alberghiero e qui per cucinare per gli altri. Sì, io sono praticamente il veterano tra i compagni di classe del quarto anno. Sì, avevo avuto il piacere di venire a contribuire a fare questa cena per chi non si può permettere di poter mangiare a casa. Insomma, lo stiamo facendo con molto piacere e come dire, magari ci siamo anche ripromessi che nel futuro se ci sarà spazio, volentieri. Quindi di tornare dietro ai fornelli. Sì. Lei, anche lei, un aspirante chef che arriva tra le altre cose straniera. Qui arrivano persone, insomma, da tutto Sciacca, storie diverse. Che effetto le fa cucinare stasera? Allora, a me a prescindere, mi piace tantissimo cucinare. E questa sera è ancora più, diciamo, particolare perché stiamo cucinando per quelli meno fortunati. E se noi possiamo dare un piccolo contributo, ci fa tanto piacere. Dopo la nostra classe, dovevamo fare oggi, questa sera, dovevamo fare l'ultima lezione di cucina. Invece siete passati alla pratica? Sì, siamo passati alla pratica e ci divertiamo, ci sentiamo bene perché comunque ogni azione del bene penso che fa diventare più buone. Mimmo Corona, lei, possiamo dire, rappresenta insieme a Padre Pasqualino, è il fondatore della Mensa della Solidarietà. Sono tanti anni ormai che siete a servizio delle persone che, diciamo, le stanno indietro, che non ce la fanno. È sicuramente rappresentata un punto anche importante nella vita di persone che magari hanno delle esistenze molto precarie. Com'è la situazione al momento? Allora, è da più di dieci anni che la Mensa è stata fondata e grazie alla collaborazione di tutto Sciacca, diciamo che i vivere non mancano mai. E questo già... È una cosa buona, diciamo. E ora, specialmente per il periodo di Natale, dicembre, molte persone che vengono a fare volontariato, gruppi... Le associazioni di volontariato che ci sono? Tanti. Però speriamo che non si fermano per Natale perché è tutto l'anno che la Mensa è aperta, c'è 160 giorni l'anno. Quindi, credo a questi gruppi, a questi volontari che vengono, di venire sempre più spesso, aiutare la Mensa. Diciamo che la situazione... abbiamo circa 100 persone che vengono a mangiare ogni sera. Per ora facciamo solo da sporto perché non possiamo servire... Per le norme anti-covid. Per le norme anti-covid. Quindi facciamo solo da sporto. Sicuramente la Mensa ha avuto qualche momento di difficoltà nel momento in cui c'è stato il lockdown. Nel momento in cui avete ripreso, alcune persone che normalmente venivano, un po' per paura del contagio, si sono tirate indietro. Vogliamo fare un appello a non abbandonare dopo? Perché adesso, in questo momento, c'è la massima attenzione. Come ha detto lei, tanti gruppi che si stanno avvicentando per preparare la cena, il pranzo, qui alla Mensa. Però, come dice lei, c'è bisogno tutto l'anno. Appunto, c'è bisogno tutto l'anno. Spero che per gennaio tante altre persone che vengono qui. Perché abbiamo bisogno di tanta forza che ci vuole. Cuochi, chi pulisce. C'è bisogno di tante persone qui ogni sera. Quindi, ecco, chiediamo pure per volontari poter aprire la domenica. Perché la domenica abbiamo solo due domeniche coperte. Altre due domeniche sono scoperte. Quindi, chiedo a tutti, chi può, quell'oretta alla settimana, venire a dedicare alla Mensa. Siamo qui. E chi può donare. Ecco, come vivere? No, non abbiamo bisogno di vivere. No, che rifiutiamo di vivere. Attenzione. Ma in questo periodo... Ma siete organizzati? Sì, in questo periodo. Riuscite a mettere il pranzo e la cena in crime? In questo periodo, sì, abbastanza. Ecco, abbiamo un pochettino di problemi sul pagare la luce e il gas. Quindi non servono solo cose da mangiare, ma serve anche altro. Quindi invitiamo tutti a donare. A donare. A donare per la mensa. A donare per la mensa.